Sicuramente con il sorriso perché era una partita difficile da affrontare al di là della classifica, effettivamente non è stata una settimana semplice per la squadra, per cui insomma tre punti che valgono oro. Sì, oggi era difficilissimo preparare una partita contro una squadra che al di là della classifica è una squadra che ho visto giocare in tante partite, è una squadra che cerca sempre di giocare, ha messo tante squadre in difficoltà, però capita quelle annate dove gira tutto storto e noi non dovevamo cercare di approcciarla bene. Noi abbiamo fatto questo perché i ragazzi sono stati molto bravi, perché la difficoltà maggiore in questa settimana è stata quella di preparare questa partita, perché tra i tanti problemi di Covid questa settimana non l'abbiamo preparata poco, solo ieri tanti giocatori, soprattutto anche chi ha giocato dall'inizio, li ho ritrovati ieri. Quindi devo ringraziare i ragazzi per la grande disponibilità e la grande voglia e determinazione che oggi serviva tanto di questo. I ragazzi sono stati, a mio avviso, molto molto bravi. Sono contento perché non era facile al di là della classifica, al di là della partita, ma soprattutto per la settimana che abbiamo passato. È stato un bene ritrovare Gianfi e Delia e a che punto è la condizione di Farias? Il ragazzo sta meglio rispetto a quando è arrivato. Gli manca ancora il ritmo caro, gli mancano i 90 minuti, però oggi l'ho visto meglio rispetto alle prime partite. Bisogna dargli anche il tempo materiale perché alla fine ti può allenare anche tutti i giorni, ma è la partita che ti dà il ritmo giusto. Gianfi sono contento perché non era facile dopo tanto tempo giocare una partita così delicata. Il ragazzo alla fine ho deciso di sostituirlo a fine primo tempo perché era munito e perché soprattutto il Crotone spingeva tanto per vie esterne. Sono contento perché non era facile, quindi l'ennesima dimostrazione, che questi ragazzi, anche chi gioca poco, si allena sempre al massimo per farsi trovare pronto quando c'è l'occasione. Mister, lo diceva poco fa, è stata difficile da preparare, ma la risposta poi è stata questa, quindi a livello di mentalità di squadra ci sono ottime risposte. Sì, sì, l'ho detto prima, era difficile preparare una gara del genere, però i ragazzi sono stati molto bravi, siamo partiti bene, abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare la soluzione giusta per fare gol. Poi una volta andato in vantaggio, subito abbiamo preso il pari, però la squadra non si è mai scomposta, è rimasta lì in partita, all'ultima azione del primo tempo siamo andati in vantaggio, il secondo tempo secondo me abbiamo approcciato meglio, abbiamo avuto tanta occasione per poter chiudere la gara. Poi alla fine la squadra, dopo aver creato tante situazioni da gol, si è riuscito a portare a casa una partita che, ripeto, non era facile, ma sono contento perché queste partite, soprattutto queste partite in questo campionato, a mio avviso alla lunga faranno la differenza. Billy. Buonasera mister, 13 punti nelle ultime 5 partite e soprattutto appena due gol subiti. Rispetto all'altra striscia positiva del Benevento, questo Benevento forse è meno spettacolare, ma molto più concreto, soprattutto avendo un po' abbassato il baricentro, sostanzialmente sta emergendo un uomo come Glick, che chiaramente negli spazi stretti è un gigante. Volevo chiederle, è una scelta dovuta al momento, allo stato di forma dei calciatori e alla disponibilità dei calciatori oppure è cambiato qualcosa volutamente da parte sua nel mettere in campo la squadra? Mi avviso ci sono momenti e momenti durante l'arco di un campionato, ci sono momenti dove sia dal punto di vista fisico sia momenti del campionato dove cerco determinate cose, in altri momenti cerco altro, nel senso che anche in base all'avversario. Sapevamo che il Crotone è molto bravo sugli esterni e quindi noi abbiamo cercato di far venire fuori gli esterni in pressione forte per andare a creare lo spazio dietro. La squadra, ripeto, l'ha fatto molto bene, però questo a prescindere, l'abbiamo fatto tante altre partite, poi per quanto riguarda lo spettacolo, io sento sempre dire lo spettacolo, io non sono pagato per fare lo spettacolo, io sono pagato insieme a tutti i ragazzi di cercare di fare le cose più semplici possibile e cercare di portare a casa il risultato. Poi ci sono partite belle che te lo permette anche l'avversario, quando si viene a giocare la partita a viso aperto ci sono più spazio e quindi diventa più bella anche la partita alla gara da vedere. Quando gli spazi si chiudono diventa una partita più complicata, più difficile, la manovra diventa più lenta. Quindi io penso che alla fine sono le caratteristiche dell'avversario e soprattutto le partite, perché non ci sono tutte le partite, non sono tutte uguali. Ripeto, c'è la partita dove gli spazi sono molto più aperti, dove la qualità dell'altra squadra è maggiore, in altre partite è minore. E quindi il condizionamento della partita, bello brutto, secondo me cambia anche in base a questo. Ma ripeto, a me piace cercare la praticità, cercare di giocare soprattutto a calcio. A volte riesce, a volte no, però quello che a me interessa è cercare di vincere, portare a casa il risultato e arrivare più in alto possibile. Sonia. Il tuo passato d'allenatore, hai cambiato tutti questi moduli in una sola stagione, perché sono un po' il segnale delle difficoltà che sta avendo questo Benevento anche per i tanti infortuni. Io da quando ho iniziato la mia breve carriera d'allenatore ho cambiato spesso, cambio durante l'anno, cambio durante le partite, ma non cambio perché a me piace o c'è il gusto di cambiare, o perché magari sei in difficoltà, perché prima di tutto il Rosa deve avere dei giocatori duttili per poter cambiare. E io ho dei giocatori duttili che mi permettono durante la partita, durante il campionato, di poter cambiare. Dall'altra parte penso che dopo alcune partite gli avversari ti studiano, cercano di limitare le cose tue positive e secondo me devi cercare di sorprendere anche l'avversario. E poi la cosa più importante, che secondo me un allenatore, almeno per quello che vedo io, la figura dell'allenatore, deve adattarsi ai calciatori. Se ho dei giocatori forti devo cercare di metterli nelle condizioni di dare il massimo e di farli stare a proprio agio. E quindi quando c'è una Rosa con dei giocatori forti, a me piace un sistema di gioco, ma io mi devo adattare anche alle caratteristiche dei calciatori che ho in Rosa. Se ho degli attaccanti, parliamo di un reparto, degli attaccanti forti, devo cercare di farli giocare in modo tale che ci diano qualcosa di positivo e qualcosa di importante, ma non personalmente ma per la squadra. Il primo tempo, a mio avviso, abbiamo sofferto perché, l'avevo detto anche ai ragazzi a fine primo tempo, Lavadula e Moncini stavano troppo distanti. Se giochi con i due attaccanti, il vantaggio deve essere, a mio avviso, quello di giocare con i due attaccanti vicini. Se giocano distanti, non ha senso giocare con i due attaccanti. Quello che ho detto ai ragazzi, il secondo tempo l'hanno fatto bene, anche il primo tempo in alcune circostanze abbiamo fatto bene, però è anche un sistema di gioco che ci devi lavorare. Noi il tempo per lavorare ne abbiamo ben poco, ne abbiamo avuto ben poco, però, ripeto, tutto sta nel vedere i giocatori e le qualità dei giocatori che c'è in Rosa. Prediligi la continuità, ma Brescia si fa fatica a pensarla perché sfida ravvicinata, insomma, qualche calciatore si è visto un po' stanco in campo. Penso che le partite come Brescia, poi la stanchezza, i due giorni di tempo per recuperare, su 24 giocatori, 25 vorrebbero giocare queste partite. Quindi la stanchezza è normale, cercheremo in questi due giorni di fare recuperare il più possibile i calciatori che hanno giocato e che stanno giocando con continuità. Però è una partita che già l'importanza, già la gara, la bellezza della gara, le energie riesce a recuperare, riesce a resettare soprattutto le fatiche di questa partita. Da domani inizieremo a pensare alla partita di Brescia che sarà una gara difficilissima, ma sarà difficile sia per noi che anche per loro. Anche perché c'è il dente avvelenato, no? Questa è una settimana un po' particolare. Brescia e Frosinone? Innanzitutto penso al Brescia che è la cosa più importante, la partita che mi va di pensare è quella adesso. Il dente avvelenato, l'andata è finita come sappiamo tutti, l'ultima azione abbiamo perso una partita che poi ci ha condizionato a mio avviso lungo il percorso. Però la squadra, ripeto, nelle difficoltà è venuta sempre fuori. Adesso da domani penseremo nessun dente avvelenato. Una partita come le altre per noi è difficile, ma come ho detto prima sarà difficile per noi, ma anche difficile per il Brescia.